Uomini e donne, Federico Nicotera, con Carola Carpanelli è stato colpo di fulmine, lei ha stravolto la mia vita. Quello di Federico Nicotera è stato certamente uno dei troni di uomini e donne di maggior successo degli ultimi anni. La scelta del tronista, ricaduta sulla ventunenne Carola Carpanelli, infatti, ha toccato quasi il 30% di share e ha generato una moltitudine di commenti sui social. Federico, a poche settimane dalla scelta, è stato intervistato da Alessandro Alicandri per TV Sorrisi e Canzoni e alla domanda se abbia avuto un colpo di fulmine per la sua Carola ha così risposto sul peluscia forma di panda che la Carpanelli gli ha regalato durante un'esterna e che è poi stato utilizzato dal tronista per comunicare la scelta, Federico ha raccontato e alla domanda su come vada adesso la loro relazione e su cosa dica la sua mamma in merito, l'ex tronista ha confessato. Anche l'ex corteggiatrice è stata raggiunta telefonicamente dal giornalista di TV Sorrisi e Canzoni e ha rivelato. Anche l'ex corteggiatrice Grazie a tutti.